Senatrice Malpezzi, per chi è importante la questione del cognome materno? Beh, al netto di quello che ha detto la consulta, che già dovrebbe bastare, però c'è tutta una parte importante che riguarda la libertà della scelta e anche la parità. Ricordiamoci che non è semplicemente un aggiustamento di natura burocratica o il compimento appunto di un'applicazione burocratica, ma in realtà diventa la sostanza di un impianto culturale che cambia e che racconta quanto ci sia della componente femminile all'interno della famiglia e della libertà di una scelta che viene fatta sempre e giustamente in condivisione. Per cui questo è un passaggio importante che il Parlamento deve affrontare. Noi speriamo di poterlo affrontare tutti insieme, ci sono degli ottimi presupposti. Grazie per la visione!